Musica Siamo con Midrea al termine di Romania Egitto, uscite dal Mundialito, cosa non è andato nella partita di oggi? Allora oggi diciamo che sono andate tante cose perché abbiamo un bel gruppo soltanto che tra i quattro di noi diciamo quelli più importanti sono un po' rotti, un po' strappato, pure io mi sono fatto male e poi quando manca quella grinta alla squadra diciamo che è difficile, i ragazzi hanno calato pure zigamente e quando vedono che non c'è la squadra non è al completo. Però diciamo che abbiamo dato tutto, soltanto che abbiamo giocato malissimo perché le infortuni per una cosa e per un'altra è andata male. Siete rimasti in partita, il 3-1 dell'Egitto vi ha fatto arrabbiare molto, cosa è successo? È successo che l'attaccante a loro che ha fatto il gol, diciamo che ha messo la gamba sulla cavita del portiere e il gol è stato valido. Poi il ragazzo che si è andato addosso al portiere e il suo figlio e diciamo una cosa o un'altra ha fatto pure il rosso e siamo rimasti pure in dieci. Diciamo se leviamo col gol e col rosso magari piacevamo di più, però è andata così, non possiamo fare più niente. Ormai la facilità è andata, i ragazzi spero che stanno bene tutti e speriamo bene il prossimo anno. Grazie. Grazie a voi.